C'è una giornata di memoria perché ricorre proprio l'anniversario della morte dell'appuntato dei carabinieri Favazzi, morto 34 anni fa, proprio per difendere il proprio lavoro. Assolutamente sì e per questo l'arma non dimentica nessuno dei suoi caduti. Anche oggi, dopo 34 anni, siamo qui a ricordare uno dei tantissimi caduti in terra di Sicilia per i valori della legalità. L'appuntato Favazzi è stato un militare della compagna di Partinico che è caduto nell'adempimento del dovere per un intervento di rapina. Oggi per noi è importante onorarne la memoria e mantenere viva il suo ricordo perché i suoi valori che hanno ispirato il superato sono per noi dei punti di riferimento. Quindi valori della legalità, valori della giustizia, del rispetto delle regole, del contrasto alla criminalità in tutte le sue forme, valori che vogliamo trasmettere anche ai giovani, alle scuole, che abbiamo invitato anche quest'anno qui a presenziare a questa importante cerimonia. Ecco, contrasto alla criminalità, un plauso alle forze dell'ordine sempre presenti in un territorio possiamo definire difficile. Infatti è notizia di qualche giorno fa proprio il colpo alla cosca di Cosa Nostra con l'arresto del nuovo capo dei capi. Sì, è stata un'operazione importante, come avete saputo, diretta dalla Procura della Repubblica di Palermo, dalla direzione di Settaranti Mafia, che ha dimostrato ancora una volta la vivacità e la persistenza sul territorio della provincia di Palermo della criminalità organizzata e di Cosa Nostra. Quindi la Guardia, delle forze dell'ordine, della magistratura e di tutte le istituzioni deve continuare a mantenersi molto alta. Sono in corso ancora tante indagini e bisognerà continuare su questa strada, del contrasto attento, vigile e costante. Qual è il messaggio che vuole rivolgere ai giovani che rappresentano proprio il nostro futuro? Ma senza dubbio è un messaggio di incoraggiamento a seguire un'unica via, che è quello del rispetto delle regole e della legalità. Per essere dei bravi cittadini, per migliorare la nostra società, non c'è bisogno necessariamente di indossare un uniforme, ma basta seguire un codice, prima ancora morale che comportamentale. Quindi rifugire da vecchi schemi di retaggi storico-culturali di certi territori che portano a forma di condizionamento della vita democratica. E' importante rispettare le leggi e vivere in maniera onesta. Vincenzo Favazzi, lei è il fratello di Antonino Favazzi, appuntato dei carabinieri morto 34 anni fa per mano di un rapinatore proprio a Partinico. Oggi è una giornata di memoria, è importante ricordare per non dimenticare. E' certo che è importante non dimenticare, ed è un ringraziamento che io voglio fare, approfittare di questa occasione per ringraziare sia l'arma dei carabinieri, che non dimentica mai i suoi figli che hanno dato la vita per l'arma e per la nazione, e naturalmente anche il comune di Partinico, che si fa carico anche di questo pensiero, e di questo ricordo nei confronti di mio fratello che in età giovanissima ha lasciato la vita, ha donato la vita, lasciando una moglie e tre bambine ancora piccole. E quindi sono onorato di questo, del fatto che sia l'arma che il comune ricordino ancora, a distanza di 34 anni, che la memoria di mio fratello non sia caduta nell'oblio e nel dimenticatoio. E questo è importante per noi, per la famiglia e per la comunità tutta. Qual è il ricordo più bello che lei ha di suo fratello? Il ricordo più bello di mio fratello è quello dell'infanzia, perché poi la vita ci ha un po' divisi. Lui, proprio perché si è arruato nei carabinieri, poi è stato trasferito in varie sedi in Italia, per cui si è allontanato da Palermo, e negli ultimi anni lo è stato avvicinato in Sicilia. Per cui la vita ci ha separati, io con il mio lavoro, lui con il suo. E quindi i ricordi più belli sono quelli dell'infanzia, quando giocavamo insieme, quando scherzavamo insieme, le amicizie che avevamo costruito insieme, prima a Messina, perché noi siamo stati parecchi anni a Messina, e poi qui a Palermo. Vice sindaco Mutisi, oggi un giorno di ricordo, un giorno di memoria, perché proprio si ricorda Antonino Favazzi, che è morto a Partinico 34 anni fa. È un giorno, ha detto bene, di memoria, di commemorazione, perché oggi in questa società così difficile, un esempio così importante, diventa un esempio da seguire per tutti noi, sia per noi adulti, sia anche per i giovani. Una persona, un uomo, un carabiniere, che è morto per adempio a quello che era il suo dovere. Questo dovrebbe essere veramente un esempio in questi momenti difficili. Partinico, ne lo sappiamo, sta attraversando delle grandi difficoltà sotto ogni aspetto, sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto culturale. Quindi avere dei riferimenti così importanti diventa per tutti noi veramente un obiettivo e una possibilità in più. Un plauso, quindi, alle forze dell'ordine che sono presenti in maniera costante nel nostro territorio. Noi facciamo molto affidamento alla loro collaborazione, perché credo che diventi indispensabile il controllo del territorio, che deve essere fatto assolutamente insieme a tutte le altre forze dell'ordine, perché l'unità è quella che ci consentirà di vivere bene nei prossimi, mi auguro, tempi futuri.